L'organizzazione di un evento particolare come quello del feet walking per la vita prevede grande lavoro a monte, ci sono delle persone che lavorano dietro le quinte e noi siamo qui con Lidia Russo che ha praticamente, essendo coordinatrice di questo evento, raccolto quelle che sono le adesioni e tutte le problematiche che sono legate chiaramente a che cosa? Alla preparazione di un evento così importante che richiamerà tantissime persone. Sì, buongiorno, sono il presidente dell'Irui 20 e quest'anno sono ben felice di far parte del feet walking per la vita, quindi insieme ai due miei partner MSP Italia e la Scuola Sarda del Cammino. Mi sono occupata prevalentemente del coordinamento delle associazioni umanitarie di beneficenza che hanno aderito alla nostra iniziativa e quest'anno infatti si è passato insomma da un numero di associazioni che l'anno scorso erano 11 a circa 23 associazioni umanitarie di beneficenza che hanno sposato il nostro progetto e che hanno fatto il nostro progetto e che hanno fatto il nostro progetto e che cammineranno insieme a noi esattamente il 21 ottobre a Lidoiride e in un percorso articolato insomma in 5 chilometri di passeggiata. L'evento, la passeggiata si concluderà all'interno di un villaggio creato sempre negli spazi davanti insomma a Lidoiride dove anche con la collaborazione dell'associazione culturale Sandale 20 si creerà, il villaggio sarà insomma arricchito dallo street food e da un accampagnamento musicale di un gruppo appunto di una band, Cruesa de Mar, che allieterà la pausa pranzo insomma. Lidia, ultimissima domanda, diciamo poc'anzi tanto lavoro però anche la grande soddisfazione è aver richiamato così tante associazioni, perché? Perché ognuna di loro presenterà chiaramente dei camminatori, degli atleti e poi si finirà a fare una sorta di convivio collettivo dove veramente vengono battute barriere, distanze e quant'altro. Certo, le associazioni nell'ambito del feet walking per la vita che sposano appunto il nostro progetto parteciperanno coinvolgendo insomma i loro associati e chi sposano invece le loro mission come diciamo istituzione e saranno circa 1500 persone che parteciperanno insomma attivamente a questa nostra iniziativa senza contare poi ovviamente alle persone che accompagneranno i camminatori stessi e che staranno con noi insomma per tutta la giornata. Quindi si preannuncia insomma un evento molto bello e molto partecipato. 21 di ottobre, partenza dal Lido Irid e ci sarà davvero da divertirsi. Grazie Lidia. Prego, ciao a tutti.